La Gourmet Accademia di Reggio Calabria ha ospitato la fotografa di punta di National Geographic USA Penny de los Santos Photography per un workshop di alta formazione in fotografia documentaria. Il titolo è Il cibo nell'area mediterranea Calabria, terra di cultura e sapori. Il corso è stato organizzato dalla Blue Ocean SRL del presidente Francesco Scarpino e patrocinato proprio dalla National Geographic. È una partnership nata nel 2009 a Washington, esercitata in tutto il territorio nazionale con riferimento all'alta formazione fotografica che da un paio d'anni di edizioni ha anche valore accademico con i crediti universitari riconosciuti ed è in esclusiva appunto patrocinata dalla Society ed è diretta dai fotografi sia americani che italiani. Penny de los Santos si aggiunge ormai ad una nutrita schiera di grandi testimoni del nostro tempo come Carsten Peter, Lynn Johnson, Melissa Farlo, Randy Olson, William Daniels, insomma tutti i grandi fotografi che sono stati da noi e con noi animano anche il circuito del Blue Ocean Workshop, delle grandi mostre che un po' interessano a tutto il territorio nazionale. Concluso il circuito Calabria con Crotone e Catanzaro, noi saremo a Cagliari, Napoli, Roma, Milano, Genova, Catania insomma in location di assoluto prestigio come il PAN, Casa della Memoria, Palazzo Reale a Genova voglio dire è un circuito particolarmente rilevante siamo orgogliosi ormai di lavorare da così tanto tempo con queste straordinarie personalità e soprattutto di creare un binomio con l'eccellenza del territorio reggino perché Blue Ocean è partner di una grande realtà ma è un'azienda che ha cuore e sede a Reggio Calabria e quindi la nostra città è sempre per noi assolutamente la nostra mamma e quindi facciamo sì che sia al centro delle nostre attività con la presenza di questa straordinaria personalità ma anche creando delle simbiosi importanti come in questo caso oggi siamo all'Accademia Gourmet di Filippo Gogliandro ed è bello per noi poter creare questo scambio virtuoso e valorizzare queste straordinarie competenze e professionalità del territorio così come faremo con altre straordinarie realtà in questi giorni dove la cultura del cibo è al centro noi abbiamo inaugurato la mostra di Penni al castello Food Culture and Food Waste, tradizioni e culture del mondo dove viene raccontata questa straordinaria cultura che poi è la parte più intima di ogni popolo è una sorta di viaggio nel viaggio e quindi è un'immersione su tutto ciò che a livello planetario accade intorno al cibo quindi un viaggio straordinario la mostra è già meta di un pubblico molto 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 numeroso ieri è una straordinaria presentazione la presenza di tante personalità quindi ci piace creare energie belle insieme a realtà assolutamente importanti e straordinarie del nostro territorio ai nostri microfoni Penny De Los Santos e lo chef regino Filippo Cogliandro la fotografia è essere presente per fare fotografia devi entrare in determinate situazioni che spesso e volentieri le informazioni si accavallano quindi fare fotografia, la giusta fotografia tutti devi estraneare quindi è una forma di meditazione il posto è bellissimo, la cucina è fantastica sarà veramente veramente difficile non riuscire a fare una buona fotografia anzi è addirittura gelosa insomma che questo posto non può essere tutto per lei la fotografia è una forma d'arte nel cibo ed è grazie alla fotografia che oggi cominciamo ad avere una coscienza una cultura gastronomica il bello della fotografia, il valore che la fotografia riesce a dare al cibo ha un ruolo molto importante è un po' come mettersi davanti ad un'opera d'arte e sentire le sensazioni che ti arrivano dentro e così è la fotografia nel cibo guardare anche un semplice frutto è riuscire a meditare davanti a un'opera fotografica poi nelle mani di Penny è veramente una sensazione che apre il cuore ma apre il tuo spirito, ti predispone e ti fa sentire un tutt'uno con l'ingrediente, con la materia prima e l'immagine stessa se potesse la fotografia trasmettere come sentimento come argomentazione di profumi anche il sapore avremmo raggiunto l'apoteosi bene, quello che davanti ad un'immagine fotografica lo spettatore sente è ovviamente quel retrogusto è un po' come dire mi viene l'acquolina in bocca grazie